Il cambio di scaletta è dettato dal fatto che aspettiamo il tecnico che riesca a collegare l'audio perché le parti informatiche a volte ancora le dobbiamo subire. Io inizio con riprendere le parole di Sergio Maestrello che è l'incaricato da parte dell'amministrazione che ha organizzato e ha strutturato tutto il percorso della comunicazione di Pordenone più facile sui media e quindi ci ha aperto ad una nuova e diversa modalità di comunicazione che fino a questo momento l'amministrazione non aveva messo in atto. Parto dal ringraziarvi dell'essere qui oggi e del condividere con noi un momento che appunto come ben diceva non è un momento conclusivo ma è un primo step di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. In questi mesi ci siamo confrontati decidendo che il percorso del piano regolatore dovesse partire con una struttura che se da un lato garantiva quella che è la finalità originaria delle norme che regolano la struttura degli strumenti urbanistici ovvero prima sapere che cosa si è e poi decidere che cosa si vuole fare e vi assicuro questo percorso non è mai stato scontato e non lo è stato nell'utilizzo degli strumenti pianificatori in questi anni dall'altro fosse anche una possibilità di riconfrontarci a 11 anni di distanza rispetto a quelli che sono stati gli stati generali che appunto l'amministrazione per la prima volta aveva fatto 11 anni fa. Rispetto ad 11 anni fa però abbiamo anche capito che erano cambiati contesto e necessità e mentre gli stati generali che si sono tenuti anni or sono avevano identificato quelli che si definiscono gli stakeholder ovvero i portatori di interessi, i rappresentanti delle categorie, i rappresentanti delle associazioni e quindi andavano a identificare delle tematicità forti su cui confrontarsi con coloro che su questi settori specificamente intervenivano abbiamo capito che in questi 11 anni la situazione si è sociale, si è profondamente modificata che le richieste che oggi emergono dalla città sono diverse, che in momenti di crisi bisogna reinventarsi avere il coraggio di rimettere in discussione i propri ruoli, le proprie sicurezze e anche le proprie certezze e quindi abbiamo deciso invece di partire con un percorso partecipato e partecipato aperto a tutti i cittadini che volessero accompagnarci in questo. In questi mesi, in queste sale, si sono alternati circa 450 cittadini che hanno partecipato ai laboratori che hanno accompagnato il lavoro di analisi, che lo hanno validato nella sua costruzione e nella sua elaborazione e questi 450 cittadini ci hanno raccontato e hanno costruito insieme a noi un documento del quale oggi vi è stata consegnata una sintesi. All'interno di questa rappresentanza libera e spontanea abbiamo poi incontrato, abbiamo lavorato anche con una classe delle scuole superiori dei geometri e li ringraziamo e oggi sono di nuovo con noi di questa partecipazione perché si sono posti con la volontà di ricoprire e di assumersi il loro ruolo di cittadinanza e non hanno quindi atteso ma sono stati propositivi. Abbiamo incontrato il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, dei quali vedete i lavori al piano di sotto e abbiamo anche, e siamo andati noi, a incontrare gli ospiti di Casa Serena. Faccio questi estremi di età per confermare quanto la ricerca della trasversalità sia stata costante in tutto il lavoro svolto. Oggi la giornata si svilupperà con questa scaletta. L'intervento del sindaco all'architetto Guarino che ha gestito tutta la parte della comunicazione e della partecipazione avrà l'onere e l'onore di raccontare nel dettaglio come il lavoro fatto in questi mesi entrerà a far parte del donte, del testo unico che noi consegneremo ai professionisti che vinceranno il bando di gara e poi avremo un momento nel quale gli speaker, cioè coloro che hanno voluto darci una provocazione e consegnare a tutti noi una provocazione, un'idea, una valutazione del percorso ci racconteranno appunto come hanno vissuto questo percorso e come possiamo ancora implementarlo. Ripeto, non è un momento conclusivo, è una tappa. È la prima tappa di un percorso che poi continuerà durante tutto il 2013 perché chi inizia seriamente a fare queste cose sa che per avere validità, serietà e concretezza debbono essere proseguite e debbono vedere il mantenimento di questi obiettivi e di queste modalità durante tutta la redazione del piano. Quindi adesso visto che l'ho sentito tossire capisco che è anche in audio passo la parola al sindaco che poi speriamo stia meglio e nel pomeriggio ci possa accompagnare. Grazie.